Festa al liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, la scuola ha aperto le porte in occasione dell'open day è stata l'occasione per offrire alle famiglie degli studenti che il prossimo anno frequenteranno gli istituti superiori l'opportunità di incontrare gli insegnanti, di conoscere le metodologie e la didattica applicate. Durante l'incontro è stato possibile visitare gli ambienti ed i laboratori presenti all'interno dell'istituto scolastico. È giusto che i ragazzi possano vedere e toccare con mano ciò che una scuola offre, non solo a livello di piani di studio ma anche di risorse strumentali quindi l'ambiente così com'è, i laboratori, tutto fa sì che i giovani domani quando decideranno, se decideranno di frequentare la nostra scuola non si sentiranno disorientati, saranno già padroni del luogo. Ed è stato importante sottolineare la presenza soprattutto dei genitori e degli alunni. Noi ci teniamo molto che i genitori partecipino a questa giornata perché i giovani da solo possono sempre avere dei dubbi una scelta guidata, una scelta condivisa con i genitori fa sì che il ragazzo prosegua nella maniera migliore nello studio perché potrà sempre avere un supporto adeguato in qualunque momento di difficoltà o di dubbio.